Ok, un attimo di attenzione, vi chiedo ancora 5 minuti che stiamo attendendo i ragazzi che hanno dato la disponibilità per fare le navette, che sono a Pianta Cina, si stanno riuniendo e stanno arrivando, poi ci saranno due navette che si metteranno in coda al corteo e ci accompagneranno perché poi dopo tutte le navette che abbiamo visto, dall'arrivo, vi permetteranno di rientrare alle vostre auto, ci vuole ancora 5 minuti, ovviamente l'oporto organizzativo ha fatto gambe e vi darò un po' di consapevolezza, passaparola signora. Grazie. Grazie. Sei metri. Grazie. 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 Arriba. Grazie.